Finiamo la puntata numero 29 di Motor News con la consuetta prova su strada, questa volta il turno della Porsche Cayenne S e Hybrid che abbiamo guidato insieme al nostro collaboratore Giuseppe Prestini, vediamo. Guidare una Porsche è sempre un'esperienza interessante per coloro che apprezzano l'automobile, per quello che rappresenta questo marchio e per la tecnologia che mette sempre a disposizione del cliente. Se poi la Porsche in questione è ibrida, oltre alla tecnologia, subentra anche lo sguardo all'ambiente e al consumo, a cui persino i marchi sportivi di un certo livello hanno dovuto adattarsi. Quattro anni dopo il lancio della Cayenne S e Hybrid, avvenuto nel 2010, i tecnici tedeschi ora propongono la seconda generazione, denominata Cayenne S e Hybrid, e noi abbiamo avuto l'occasione di guidarla e di valutare molti particolari nelle nostre impressioni di guida. Come vedete nelle immagini, abbiamo fatto questo servizio insieme al nostro collaboratore Giuseppe Prestini. La prima cosa che salta all'occhio come differenza tra la vecchia e la nuova versione ibrida è la possibilità di attaccarsi alla spina grazie alla tecnologia plug-in. In poche parole, questo significa ricaricare le batterie durante la notte, usando una comune presa di corrente domestica, oppure quella del tipo 2 della ricarica rapida. Nel primo dei modi indicati l'abbiamo caricata nel nostro box durante la notte, mentre nel secondo modo abbiamo fatto diversi rabocchi nelle colonnine di ricarica rapida e vivilliti presenti nel territorio bergamasco, a presezzo ed ad almine per l'esattezza. La Porsche Cayenne SE Hybrid che abbiamo provato è stata equipaggiata con il motore termico V6 da 2.995 cm³ in grado di erogare una potenza di 245 kW o, se preferite, 332 CV, abbinato ad un motore elettrico sincrono da 70 kW di potenza per un totale di 315 kW che, tradotti in cavalli, fanno la bella cifra di 427 e vi assicuriamo che al momento di pigiare il pedale dell'acceleratore si sentono tutti. Nella nuova versione le batterie a litio-ion sono raffreddate a liquido, contrariamente a quelle del modello precedente il cui raffreddamento era ad aria. Ed è nella percorrenza in modo elettrico e nella velocità massima che abbiamo trovato delle belle e positive sorprese, perché la nuova Cayenne SE Hybrid ci ha permesso di viaggiare in modo elettrico puro per 56 km, guidandola come si guida un'auto elettrica, ma senza esagerazioni, come può essere quella di una velocità di percorrenza molto bassa che dà fastidio agli altri utenti della strada. In poche parole, senza dar fastidio a nessuno, cogliendo le occasioni di sfruttare il recupero di energia in decelerazione ed in frenata, in due occasioni abbiamo raggiunto i 56 km di percorrenza in terreno pianeggiante. Mentre appena ricaricata l'abbiamo lanciata in autostrada in modo elettrico e abbiamo raggiunto la velocità di 119 km all'ora, non male, considerando che si tratta di un SUV non precisamente leggero. Ovviamente lo stile e le prestazioni Porsche sono rimasti intatti e lo si vede subito dal momento in cui ci sediamo al posto guida, con la console centrale piena di pulsanti per le diverse funzioni, con la leva del cambio automatico a 8 rapporti e poco sopra il display che mostra tutte le informazioni necessarie. Muovendoci in elettrico abbiamo riscontrato anche il problema di non essere sentiti dai pedoni o ciclisti ed in qualche occasione abbiamo dovuto scartare brutalmente. Trattandosi di tratti urbani dove si circolava a velocità contenuta non ci ha creato particolari problemi, ma comunque bisognerebbe far sentire la presenza delle auto elettriche in qualche modo per evitare questi inconvenienti. Nonostante trattarsi di una Porsche e per giunta di un motore V6 da 3 litri, il consumo è risultato del tutto umano e senza lasciarci tentare dai cavalli che si sprigionano pigiando il pedale destro, abbiamo consumato soltanto 3,40 litri di benzina per 100 km e 208 Watt ora al km in modo elettrico. La Porsche Cayenne che abbiamo provato viene offerta in listino sul mercato italiano al prezzo di 111.789,10 euro chiavi in mano. E così con le impressioni di guida della Porsche Cayenne SE Hybrid è che noi finiamo la puntata numero 29 del 2015 di Motor News. Non ci riesce a augurarvi una buona settimana a tutti e se volete continuare a seguirci, darvi appuntamento alla settimana prossima sempre in questa rete a questo del coraggio. Grazie a tutti.